Il nostro progetto che è iniziato nel precedente anno scolastico ha avuto come obiettivi soprattutto oltrepassare gli stereotipi culturali per creare una cittadinanza attiva. Ha coinvolto tre paesi oltre la nostra scuola, la Polonia, la Romania e la Turchia. È un progetto che ha delle finalità non solo superare gli stereotipi culturali ma anche far conoscere aspetti del paese straniero, dei paesi coinvolti nel nostro progetto. E che dà la possibilità sia agli studenti che ai docenti di viaggiare e ampliare gli orizzonti culturali. Dove siete già stati? Siamo già stati in Polonia l'anno scorso ma soltanto in un meeting di docenti, poi a febbraio in Turchia e successivamente in Romania. Ora quest'anno siamo andati dalla scorsa settimana dal 12 al 18 ottobre in Polonia a Poznan precisamente. Che esperienza è stata per te? Come l'hai vissuta tu con tutti i tuoi compagni? È stata un'esperienza bellissima e ringraziamo i docenti per questa meravigliosa opportunità che ci hanno dato di conoscere altre culture che prima non conoscevamo. Cosa avete fatto in questi paesi quando siete stati con ragazzi che fanno come vuoi ancora scuola? Abbiamo girato la loro città che è una città bellissima, poi abbiamo conosciuto i cibi che non sono come i nostri e ci siamo adattati alle loro culture.